I pazienti sottoposti a trapianto d'organo oppure a trapianto di midollo osseo hanno un importante nemico da contrastare, le infezioni da citomegalovirus. Su questo tema si è svolta qui a Roma una bellissima due giorni organizzata dall'azienda farmaceutica Takeda e noi ci siamo fatti raccontare un po' il feedback, i messaggi chiave da un vero esperto dal dottor Alessandro Busca. Dottor Busca, innanzitutto un feedback sull'evento che si è svolto qui a Roma, un feedback suo è importante perché lei è ematologo, dirige il centro tra pianti di staminali a Torino, quindi cosa le è sembrato di questo evento? Devo dire che la cosa che mi ha colpito in maniera positiva, in maniera assolutamente piacevole è il fatto di incontrarmi e di parlare, di sentir parlare non soltanto della problematica del citomegalovirus nell'ambito del paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali, dove a questo proposito noi ci incontriamo frequentemente, abbiamo tanti congressi, tanti incontri, ma confrontarci anche con chi invece ha a che fare con l'infezione in altri ambiti trapiantologici, quindi si è sentito parlare molto del trapianto di rene, ma anche di fegato, cuore, polmone, quindi avere anche un feedback su quello che avviene per quel che riguarda l'infezione del citomegalovirus nell'ambito di altri tipi di trapianti è sicuramente una cosa utile perché ci fa capire la problematica anche in altri pazienti, quindi questo l'ho trovato sicuramente un aspetto importante ed è che raramente noi abbiamo a che fare con questo tipo di multidisciplinarietà. Quindi uno dei valori di questo incontro. Quali sono i messaggi che porta a casa, le cose importanti di questo evento che ritiene utili nella pratica clinica quotidiana? Io credo che sia stato fatto veramente molto bene il punto su quello che è l'infezione del citomegalovirus attualmente. È stato detto più volte, è sottolineato più volte che noi ormai dobbiamo parlare di un'epoca pre-le termovir, quindi pre-profilassi che ormai viene applicata su moltissimi, su quasi tutti i pazienti, è un'epoca post-le termovir. Questo è sicuramente il punto fondamentale, è assolutamente chiaro, la storia dell'infezione del citomegalovirus è cambiata con il le termovir. Quali sono le problematiche con cui ci confrontiamo adesso, nell'epoca post-le termovir? Sicuramente il problema con cui ci confronteremo è definire meglio i pazienti che adesso sono a rischio nonostante la profilassi. Abbiamo cambiato moltissimo le terapie immunosoppressive, abbiamo nuovi farmaci, il paziente che fa il trapianto di cellule staminali ha il problema della malattia trapianto verso l'ospite, abbiamo nuovi farmaci che utilizziamo e quindi dobbiamo definire meglio il paziente a rischio di infezione del citomegalovirus e capire anche meglio come trattare le forme refrattarie e le forme recidivanti. Questo credo che siano un po' gli aspetti più importanti che emergono da questo meeting. Per quel che riguarda il maribavir, questa è sicuramente una molecola interessante che è un'ulteriore arma che noi abbiamo a disposizione. Nel paziente sottoposto a trapianto che è un paziente estremamente fragile, difficile, più possibilità terapeutiche sia di profilassi sia di trattamento a noi fa molto molto piacere. Preferiamo sempre avere uno strumento terapeutico in più piuttosto che essere in difficoltà. Quindi avere una molecola che è tollerata bene e che può essere somministrata agevolmente è sicuramente un elemento molto importante. I risultati pubblicati sono assolutamente confortanti, quindi da questo punto di vista noi non possiamo che essere contenti della possibilità di avere questo nuovo farmaco nel nostro armamentario terapeutico. Per quel che riguarda i pazienti, sono stati fatti vedere i dati dello studio italiano che ha valutato nei pazienti trapiantati l'infezione da citomegalovirus. Quello che emerge è che la malattia da citomegalovirus è ormai un elemento raro, per fortuna, e quindi sicuramente da questo punto di vista i pazienti hanno un grande beneficio. La malattia è diventata un evento, ripeto, abbastanza occasionale. Quello che invece è importante è che però l'infezione comunque impegna non solo il medico, non solo l'ospedale, ma il paziente. Perché comunque avere un'infezione e dover fare delle terapie che magari richiedono, se non l'ospedalizzazione, il day hospital, questo è un impegno importante per il paziente. Di nuovo, avere invece un farmaco che si possa amministrare per bocca e non ha effetti collaterali importanti nel paziente trapiantato, è di nuovo anche qui un elemento che è sicuramente utile e importante per il paziente.